Buonasera e benvenuti all'incontro, la trasmissione dell'infinito dentro un bisogno a cura del centro servizi per il territorio Novara VCO, la trasmissione di approfondimento sul non profit e sul volontariato. L'ospite di oggi è Giulia Negri che ringrazio per aver accolto il nostro invito, buonasera Giulia. Con Giulia Negri parleremo di un tema che come vedremo ha molto a che fare con il volontariato, con i temi che normalmente siamo abituati a trattare durante le nostre trasmissioni. Giulia Negri è assessore all'istruzione, alle pare opportunità e alla gentilezza del comune di Novara. Allora Giulia entriamo subito nel merito del tema di questa puntata. Novara tu sei assessore alla gentilezza che è una cosa molto particolare, raramente si sente parlare di un assessore alla gentilezza. Come nasce quest'idea dell'assessorato sulla gentilezza? Come nasce questo progetto e perché il comune ha deciso di istituire un assessorato alla gentilezza? Intanto grazie per l'invito, sono molto onorata di essere qui con voi, di poter manifestare nella vostra televisione attraverso tutti i vostri teleascoltatori quello che è un progetto che Novara ha voluto proprio davvero tanto poter realizzare. Parto dal progetto perché l'assessorato arriva dopo il progetto. Il progetto Costruiamo Gentilezza è stato subito accolto in termini molto positivi, propositivi e ottimistici, come un po' è la parola stessa, rappresenta un po' questi termini che ho utilizzato. È stato accolto soprattutto, è presentato perché la parola gentilezza, il progetto in sé, presentatoci dall'associazione Core Tamor, un'associazione del Piemonte, è nato nel periodo più brutto, credo, degli ultimi tempi della nostra storia, cioè nel periodo del Covid, periodo in cui gli incontri erano, si erano rallentati per non dire stoppati, periodo in cui soprattutto i bambini con la Dada non potevano incontrare gli altri bambini, non potevano fare le attività sportive, non potevano abbracciarsi, trovarsi. C'era stato proprio un freno, oltre che a tutto quello che è stato il mondo economico, anche proprio un freno sociale ed emotivo che abbiamo visto con questa ripresa che c'è stata in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno e mezzo, essere stato per loro un grande gap, un grave gap, un gap negativo. L'associazione ha colto, visto che il presidente Luca Nardi è anche un insegnante, ha colto subito nel segno quello che era l'esigenza all'interno del sociale e nello specifico delle famiglie. Cosa c'è più importante del bambino? Credo niente all'interno delle nostre famiglie. Quindi il fatto che il bambino potesse avere questa sofferenza e avesse, si portasse negli anni questa lacuna, questo buco, è stato motivo per cui l'associazione ha pensato al progetto Costruiamo Gentilezza. Arriviamo a come Novara ci è arrivata, velocemente, ci è arrivata perché noi per primi avvertivamo questo senso di negatività, questo senso di impotenza rispetto a quello che era un'esigenza d'obbligo, quella della mascherina, quella di non toccarci, quella di non poterci incontrare e nei bambini si è sentita tanto, ribadisco, anche nelle famiglie perché poi il malessere del bambino, malessere proprio anche psicologico, si riversa sempre su quelli che sono i genitori o che vive con loro, nonni eccetera. Quando mi è stato dato alla delega all'istruzione delle pari opportunità, devo dire la verità, che il primo pensiero è stato troviamo qualcosa che le unisca queste due deleghe, così di primo pensiero, poi ognuna viaggiava per sé, poi alla fine quando uno sul web cerca, fa, si accende la lampadina con la parola gentilezza, la parola gentilezza è una parola secondo me chiave, chiave in ogni situazione, a partire da quello che uno poi può intendere per gentilezza o meno, e poi magari l'approfondiremo, proprio per come lega davvero tutto. Essere gentili per un bambino non deve essere solo, oltre che alla parte civica di dire grazie, prego, si accomodi, faccio passare, aiuto la nonnina, lascio il posto sul pullman, questo è fondamentale ed è educazione civica ed è un'educazione che deve appartire anche dalle famiglie, non solo dalla scuola, e anche proprio la gentilezza del fare, cioè mettiamo, facciamo delle pratiche di gentilezza che iniscano e finiscano, che facciano star bene il bambino e quindi che nascano dal bambino direttamente e che arrivino direttamente ad essere concrete, cioè in modo che il bambino veda quello che ha fatto, che l'ha fatto star bene e che dia un beneficio alla comunità. Faccio un esempio banale ma che riassume bene quello che ho detto, il fatto di pensare di dare un grembiulino che ho scritto volontario della gentilezza al bambino, uso il termine volontario perché poi ci agganciamo a voi, puliamo l'aiuola, ha fatto qualcosa che lo fa star bene e che fa bene. Perché usiamo il termine volontario perché quando abbiamo pensato a questo progetto le prime persone che ci sono venute in mente, il primo ente che ci è venuto in mente è stato il CST, il Centro Servizi Territori, con il quale da sempre il Comune ha ottimi rapporti, ci siamo subito interfacciati con il Presidente Daniele Giaime che subito ha detto ci stiamo, poi ci siamo visti con la direzione, con altre persone importanti che facenti parte del vostro consiglio e da lì è nato tutto perché anche loro hanno pensato che all'interno del volontariato, uscendo da quello che è il discorso del bambino ma non si slega perché i nonni spesso vanno a prendere i bambini a scuola. Quando c'è stato questa interruzione con la dad, anche i nonni o il vicino che aiutava la mamma o il nonno non hanno più potuto fare quello che per loro era un gesto vero di gentilezza, cioè loro erano contenti di andare a prendere i bambini, i bambini erano contenti di vedere il nonno, è mancato anche quello, i nonni a casa loro, i bambini a casa loro. Io dico i nonni perché purtroppo oggi il volontariato si riassume nelle persone che hanno del tempo libero e sono i pensionati. Credo che questo si agganci bene anche con le scuole e con i bambini perché penso che una propulsione importante sul discorso del volontariato debba partire anche dalla scuola. Ecco magari poi dopo parleremo anche, entriamo nel dettaglio della scuola. Quindi questo progetto è partito? Sì. Quando è partito? Allora è partito che abbiamo iniziato ad aprile del 2022. Ecco che cosa è stato fatto? La delega, la gentilezza è arrivata per dare un cappello fondamentale e necessario che è quello istituzionale a quella che è una delega che doveva diventare parte attiva all'interno della scuola, all'interno delle associazioni che hanno a che fare con le pari opportunità e che quindi sono anche quelle del volontariato. Quindi diventava un discorso importante da poter anche trasmettere in termini più corretti e ripeto istituzionali. Quindi quali sono i passi, quali sono le iniziative che sono già state intraprese? Innanzitutto siamo stati scelti come capitale di Costruiamo Gentilezza del 2023. Quando c'è stata data la nomination con entusiasmo abbiamo subito accettato. Sapendo che ci aspetta un anno faticoso di duro lavoro, di tanti progetti, ma abbiamo molti aiuti, è stata accolta bene anche dagli insegnanti, dalle scuole, non c'è nessun tipo di obbligo. Perché il discorso di aderire a questo progetto deve essere assolutamente voluto, facoltativo e deve soprattutto andare ad attingere da chi ha la voglia di esprimere le proprie idee. E com'è stata la risposta? Molto positiva, molto positiva, anche molto più di quanto ci aspettassimo, anche se non avevamo un'aspettativa reale perché è la prima volta, quindi quello è. Molto positivo, ci sono già state allora, il 4 dicembre c'è stata la festa diciamo della proclamazione, nel Broletto, nella sala dell'Arengo del Broletto del Comune di Novara, che è già di per sé una sala... Infatti vedremo poi scorrere le immagini su questo. È una sala magica. Da lì c'è stata la nomina del primo volontario della gentilezza, abbiamo sottoscritto quello, abbiamo sottoscritto il... Che ricordo è il nostro presidente, vediamo adesso nelle immagini, Daniele Giaeme, che è stato il primo volontario. Il primo volontario è stato proprio il primo volontario premiato e da lì speriamo ce ne siano tanti altri che si manifestino, che si candidino perché non comporta niente, comporta solo il dire aderisco, mi piace questa cosa, che la gentilezza non è solo una gentilezza educativa, non è solo una gentilezza del cuore, è una gentilezza anche del fare. Noi puntiamo molto sul fare. Ecco, per te cos'è la gentilezza? Per me la gentilezza è una virtù, è una virtù un po' come può essere il coraggio, un po' come può essere l'amore, un po' come può essere la forza dell'animo. Perché quando tu hai la forza dell'animo, cioè quando tu capisci che il tuo sentimento può diventare anche qualcosa, ti senti gentile, ti vedono gentile secondo me. Io non trovo che sia sempre giusto associare la gentilezza al grazie al prego, quella la trovo educazione. La gentilezza è proprio quel gesto, quel qualcosa che proprio è palpabile, ma che ti esce proprio da dentro. Quindi io mi auro che possa essere, fatemi passare il termine, magari non tanto da Covid, contagiosa, dico sempre perché io tendo sempre a usare i termini positivi. Però rende bene l'idea. Positivo e contagioso che con il Covid non vanno d'accordo. Però rendono l'idea. E la gentilezza è veramente, il colore della gentilezza lo rappresenta bene, rappresenta quello che penso anch'io che possa essere e rappresentare la gentilezza, è il viola, che è il connubio tra il rosso e il blu. Il rosso è l'amore e il viola sono il coraggio e la forza. Ed è un po' quello che ho detto prima. Se uno ha voglia di manifestare con forza e coraggio l'amore che ha dentro, fa veramente una pratica di gentilezza compiuta e che davvero chi la riceve la riconosce. E sono state fatte anche delle cose di colore viola, no? Certo. Per aiutare, attraverso, concretizzare nei simboli. La fascia è viola. Ho scelto un lilla perché qualcuno mi ha detto non vogliamo poi che scrivi sopra i tuoi familiari. Non lasciamo perdere, ho detto teniamo la fascia lilla. Con scritto Costruiamo Gentilezza, che poi tutto il 2023 accompagnerà in alcune occasioni per simboleggiare la capitale e rappresentarla. Ecco, col sindaco. Sì. Quel giorno è stata proprio la consegna della fascia. È stata una giornata emozionante, molto particolare. C'erano presenti tanti amici. Voglio sottolineare tante persone comuni che probabilmente la gentilezza la praticano senza neanche accorgersi. Sì, magari non tutti la chiamano in questo modo, però forse usare un unico termine aiuta a valorizzare quello che è anche delle esperienze positive o quello che uno può aver dentro. Tante volte nel volontariato diciamo che appunto vedere l'altro che facendo volontariato è contento crea quella sana invidia che diventa contagioso. E che deve essere una replica di questa cosa. L'esempio, stavolta, siccome nell'assessorato di istruzione noi tendiamo a dire ai bambini non copiare, adesso dobbiamo dire coppia. Perché le cose belle vanno anche copiate. Sono il famoso esempio gentile. Eh sì, assolutamente. C'erano, dicevo, tante persone presenti. C'è stato anche il questore del Senato, il senatore Nastri che è venuto e ha rappresentato anche la massima istituzione. Quindi per me è stato anche un momento emozionante, personale, oltre che amministrativo e politico, che ricorderò. Ecco, Novara Capitale della Gentilezza 2023. Che cosa si prevede? Che cosa è previsto? Allora, intanto si prevede un anno gentilissimo. Scherzo, comunque no. Allora, adesso partiamo con il primo trimestre. Abbiamo già in corso il primo contest, inizierà proprio il 20 gennaio, ed è un contest legato al Santo Patrono. Voi sapete che il 6 e il 7 gennaio abbiamo illuminato la cupola del colore della gentilezza. Viola per salutare ed iniziare l'anno della gentilezza con il simbolo di Novara, che è riconosciuto in tutta Italia, ed è la nostra cupola. Bellissima. Tra l'altro viola è di un'eleganza e di una bellezza stupefacente. Tutti l'han detto. È bellissima, è bellissima. Sì, sì, ma infatti si vede. Già la cupola è bella, ma viola è proprio ancora più elegante. Poi, dal 20 gennaio, iniziamo con un contest sulla preghiera. La preghiera non solo intesa come religiosa, ma preghiera nel termine di riflessione che facciamo fare ai bambini. È un contest che abbraccerà tutte le scuole cattoliche, paritarie e comunali di tutta Italia che vorranno aderire. Daremo una mail specifica a cui mandare le preghiere. E queste, fino al 4 marzo avranno tempo. E queste preghiere poi, a caso, vedremo come, saranno lette nella giornata che ci sarà il 18 marzo, dedicata ai nuovi nati. Perché anche il momento della nascita è una forma massima di gentilezza. Bellissima. La mamma, il bambino, la famiglia, o, se non c'è la famiglia, la mamma e il bambino, che restano comunque, fino al momento, soprattutto nel momento della nascita, un tutt'uno. Questo lo sappiamo, da donne lo sappiamo, che è una cosa, è un momento importante. E poi, la festa dei nuovi nati, perché, come comune, come assessorato, proprio l'amministrazione, anche il sindaco e tutta l'amministrazione sono d'accordo, pensavamo a un kit gentile da regalare ai nuovi nati, solo del 2023. Stiamo ancora mettendo in costruzione quello che ci sarà all'interno, però tendenzialmente tante cose che andranno a valorizzare la nostra città. Servizi già presenti, servizi che devono essere valorizzati e che molto spesso non sono presi in considerazione. Il nostro centro famiglia, che effettua massaggi per i nuovi nati, segue le madri, le mamme con l'allattamento, che sappiamo essere un momento un po' delicato. E qui ci rilasciamo alle pare opportunità, all'allattamento. Ci sono tante cose davvero in comune che abbiamo scoperto. Poi faremo la cronaca viola, molto importante quello, perché saranno delle testate dei giornali di Novara, il Corriere di Novara, l'Azione e anche la stampa si sono rese disponibili a darci degli spazi dedicati, che chiameremo cronaca viola, e saranno probabilmente racconti di gentilezza che faranno i volontari, i bambini e gli insegnanti, o chi ha da raccontare delle belle storie gentili e voler farle sapere ai cittadini e ai lettori dei giornali in questione. E com'è stato il rapporto con le associazioni di volontariato? Ecco, questo è stato un rapporto subito amore a prima vista, nel senso che, grazie a voi, alla CST di Novara, è stato subito importante il rapporto, perché siete un gancio fondamentale, perché le associazioni sono tantissime sul territorio. devo dire che tutte si sono dimostrate sensibili all'argomento, e come è noto, un'associazione di volontariato di per sé è sempre sensibile a quello che succede, ma devo dire una cosa, la posso dire, vero? Tanto ci stanno ascoltando in pochi, diciamo così, che è molto bello come è stata presa la parola gentilezza, perché se da qualcuno, magari è vista in termine strumentale, ma non vogliamo parlare di questo, da tanti, quando l'uomo di gentilezza vedi il sorriso, quindi capisci che è davvero una forza positiva. Sì, forse si sono anche riconosciuti, forse, in quello che già fanno, no? È un riconoscimento a chi lo è, perché si sente di più titolato a farlo. Forse ognuno poi è declinato a seconda dell'attività di cui si occupa, però forse è come riconoscere. Nel volontariato è azzeccata, un po' come nei bambini, un po' con l'insegnante, un po' in un percorso che fa parte del dare qualcosa che è tuo, magari anche intimo, a qualcun altro per una nobile causa. Certo. Una nobile causa può essere il tirare su le cose sporche nell'aiuola come davvero aiutare l'anziano su e giù dalla macchina o accudirlo o fare tante cose per chi ha bisogno e sappiamo che voi... E quindi le associazioni di volontariato che sono interessate a partecipare sono tantissime e possono manifestare il proprio... Sì, possono manifestare il proprio interesse. Direttamente abbiamo sul sito costruiamogentilezza.org o direttamente sul sito vostro della CST Servizi Territoriali Novara VCO c'è proprio una pagina dedicata al volontario della gentilezza. Già tre o quattro associazioni si sono iscritte e hanno mandato l'iscrizione anche al Costruiamo Gentilezza.org. Ed è un'iscrizione gratuita proprio per poter sostenere, riconoscere... Hai detto bene è a costo zero. A costo zero per chi lo fa ma anche per noi non deve essere una delega o un progetto che deve andare a puntare su quello che di semplice già facciamo valorizzarlo. Certo. Sussidiario insomma. Sussidiario esatto. Valorizzare quello che si fa. a proposito dei volontari alcune associazioni che diventeranno Punto Viola sempre iscrivendosi sul costruiamogentilezza.org e ovviamente nel fare la richiesta di diventare Punto Viola raccontare un po' la loro storia. Per esempio abbiamo delle associazioni magari oggi magari fare i nomi aspetto perché prematuro che hanno a che fare molto con i bambini che hanno un rapporto magari anche più diretto in situazioni non sempre belle perché ci sono anche noi abbiamo delle scuole delle classi come comune all'interno dell'ospedale purtroppo ci sono anche bambini che hanno bisogno di degenze più lunghe hanno bisogno di non perdere la scuola e noi abbiamo la scuola d'infanzia la primaria le medie nei momenti in cui c'è bisogno che sono strutturate all'interno dell'ospedale quindi lì le associazioni sono fondamentali poi le conosciamo il volontariato lì è davvero vale più del medico eh sì tante volte guarire l'anima aiutare l'anima aiuta poi anche il sorriso la disponibilità è già gentilezza quella ecco come assessore all'istruzione ma che si lega come abbiamo hai detto molto bene al discorso comunque della gentilezza tu ti occupi anche delle scuole in particolare quindi avrai visto con questo progetto stai vedendo ci raccontavi l'importanza al feedback secondo te quanto è importante l'educazione nelle scuole a partire dai più piccoli concretamente nel senso che sappiamo che è importante sappiamo che l'educazione civica è importante abituarli al volontariato abituarli alla gentilezza però trovare dei metodi delle modalità che effettivamente aiutino a sviluppare queste cose nei bambini quanto è importante e come può essere fatto al meglio allora questo è importantissimo come dicevi tu è innegabile dire che sia importante educare in modo giusto verso le regole giuste ma io continuo a pensare qua faccio la parte dell'assessore anche se sono stata anche insegnante quindi so cosa vuol dire anche interfacciarsi con i bambini e con bambini ognuno diverso dall'altro ricordiamoci che sono davvero tutti diversi quindi non possiamo pensare siamo tutti unici siamo tutti diversi e loro anche io credo che continui ad essere fondamentale più del libro come nella vita come nelle relazioni come dai grandi come dai piccoli il buon esempio cioè fare gli esempi veri ai bambini perché i bambini hanno delle risorse di idee di animo di colore viola cioè dell'amore con la forza e il coraggio che noi grandi non abbiamo e continuo a pensare che il nostro esempio per loro debba essere una guida ma il loro vivere il loro presentarci la realtà debba essere anche per noi un grande insegnamento da rielaborare e ridarglielo riconsegnarglielo nei termini giusti anche loro possono insegnare assolutamente ecco e dal punto di vista delle pari opportunità pari opportunità si lega strettamente va a braccetto con il volontariato perché noi abbiamo tantissime associazioni per esempio abbiamo una palestra di solo donne si chiama liberamente donne a Novara che diventerà un punto viola perché accetta tutte le donne nel senso anche una stanza apposta per le donne che hanno la loro cultura diversa dalla nostra quindi anche del cambiarsi non insieme alle altre quindi che ha rispettato quello che è l'essere di ognuno di noi e la cultura loro diventeranno un punto viola proprio perché hanno usato questa accortezza direi assolutamente gentile del praticare il rispetto ed averlo che è un'altra pratica di gentilezza a costo zero perché costa niente trovare una e poi abbiamo tantissimo si lega sul discorso della violenza sulle donne lo sappiamo è inutile che sto qua dire che l'uomo deve essere gentiluomo perché cadiamo nel retorico cadiamo nel banale io credo che quando si coltivi la gentilezza si debba coltivare anche l'autorevolezza si debba coltivare l'autostima si debba coltivare il rispetto di se stessi la donna nel momento in cui si trova braccata da quello che è la violenza anche quotidiana familiare il mobbing del lavoro perché le violenze non sono solo fisiche sono anche psicologiche debba usare verso di sé verso gli altri la pratica di gentilezza del rispetto per sé stessa ecco tu chiudiamo con quest'ultima domanda che facciamo sempre una domanda un po' personale no? aiuto e vabbè si vede evidentissima la passione che metti in quello che fai nei progetti anche proprio su questo tema della gentilezza che hai fatto proprio tuo ma tu sei assessore da poco del Comune di Novara come ti è nata questo desiderio questa voglia di metterti a servizio del bene comune che è una forma di volontariato e una forma di gentilezza sì ecco diciamo che la declinazione nel termine in cui sono oggi assessore di volontariato di partenza ma adesso diventa proprio un impegno vero verso la città verso il bene comune verso i cittadini e un po' anche verso chi mi ha dato fiducia e spero anche chi magari non me l'ha data che possa vedermi in una veste che prima non avrebbe mai detto poter vedere guarda è nato è nato tutto perché vabbè io è un anno e 15 mesi che sono assessore ed è 15 mesi che faccio politica perché l'ho sempre masticata vissuta diciamo pure mangiata ben servita perché arrivo da una famiglia che ha sempre fatto della politica uno scopo di vita un senso civico da mio nonno mia mamma si chiama De Gasperi di cognome quindi mi fermo è già un autografo vale già come fosse un rigore e poi perché ti devo dire mi hanno chiesto se volevo mettermi in gioco se mi fosse interessato provare questa esperienza è arrivata in un momento della mia vita dove non potevo forse dire di no in un momento di maturità mia in un momento di certezze di pensiero in un momento che la mia attività me lo consentiva di potermi dedicare più spazio e anche la mia famiglia perché io ho sempre messo davanti a tutto fino a che è iniziata questa esperienza il lavoro e anche seguire e far crescere le mie due figlie che sono la cosa più importante per me purtroppo il nostro tempo è terminato io ringrazio tantissimo l'assessore Negri di questa bellissima chiacchierata e vi do l'appuntamento alla prossima puntata dell'infinito dentro un bisogno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti